Ciao ragazzi siamo nell'officina di Fabio Mereu a Terralba perché vi stiamo dando il compito ufficiale di essere controllore in uno dei controlli orari della veloce Ci siamo quasi, questo fine settimana partiremo per i due giorni di mototurismo regolarità Ciao ragazzi per me è un piacere far parte di questo vostro progetto Cosa ne dite se spezziamo la mattina e vi faccio vedere una moto che è appena finito di restaurare? Abbiamo colto occasione per accendere un ottimo mezzo d'epoca di Fabio, un due tempi, adesso vedrete Adesso accendiamo gli Suzuki, è un modello TS400 Apache di metà degli anni 70 e farà un bel po' di fumo Vale Ragazzi io ci provo, primo avvio Speriamo vada tutto bene Speriamo vada tutto bene Grazie a tutti Il suono dei tuoi tempi anni 70 è particolare In quarantena ne ho approfittato con un po' di tempo libero per, tra virgolette, lucidare la prima moto di mio papà. È una moto anni 70, la particolarità è che è un grosso monocilindro due tempi, è una moto che è sempre stata in funzione, solo che ha vissuto anche qualche decennio di natività. Ciao ragazzi, oggi siamo a Terralba perché il prossimo weekend c'è il nostro primo evento di mototurismo in regolarità, si chiama La Veloce e Fabio, che è il nostro partner già con gli eventi, uno dei nostri meccanici ufficiali, sarà al nostro fianco per l'evento al settimo controllo orario, sarà in zona di Terralba, in una zona molto molto bella, attrattiva nella laguna di Marcedì e niente, qua vi aspettiamo, poi mentre definiamo tutti i dettagli del controllo orario, qua poi faremo anche qualche registrazione sulle perle e sulle attività quotidiane del nostro buon Fabio, e beh... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!